Ciao a tutti e benvenuti. La storia di Carbonolo è davvero incredibile, credetemi, nel senso che molti di voi mi avevano chiesto di fare la chiaccherata di oggi da Milanello proprio lì, dove ci siamo ritrovati in tanti, pre-partita della scorsa stagione che è andata benissimo, ma avevo deciso di fare soltanto la foto perché oggi gli impegni a Milanello per il giorno del raduno della squadra sono tanti e ravvicinati. Dovete sapere che appena sono arrivato nei pressi di Milanello ho visto il cartello di località di Carbonolo, il rione Carbonolo superiore di Carnago e quindi di Solbiate Arme in provincia di Varese completamente ricoperto dalle foglie, piante e cespugli crescono completamente ricoperto dalle foglie. Mentre tentavo di liberarlo dalle foglie perché non volevo che vi arrivasse un cattivo auspicio stagionale, è intervenuto il proprietario della villa che si trova di fronte che ha deciso di pensare a tutto lui con un forcone, con un forcone, quasi fosse il forcone del diavolo a ripristinare il rito di Carbonolo, ha tolto le foglie e, come potete vedere nella foto d'apertura di questo video, ci ha restituito insomma il nostro feticcio, chiamiamolo così. E quindi insomma mi piaceva raccontarvi questa storiella di inizio Raduno, una giornata quella del Raduno rosso-nero coperta a 360 gradi, coperta anche e soprattutto da tanti filmati, tanti video, tante corrispondenze, tanti collegamenti con Milanello e naturalmente l'attenzione è incentrata sulle parole di Stefano Pioli che ha fatto la prima conferenza stampa stagionale 2021-2022, raccontata ampiamente anche da OneFootball che vi segnalo e vi ricordo, OneFootball è un grande portale, è una grande app gratuita che potete scaricare gratuitamente dalla descrizione di questo video, tanti contenuti e tante notizie su OneFootball e naturalmente anche una app gratuita completamente a vostra disposizione, quella di OneFootball che anche io ho scaricato. Le parole del nostro allenatore. Parole importanti, doverose, misurate, mi sono piaciuti molto tutti i passaggi in cui Stefano Pioli ha ricordato il suo affetto, il suo amore per tutti i giocatori che allena. Nei confronti di Donnarumma e Cialanoglu non c'è stata una sola virgola fuori posto da parte del mister, c'è stata la conferma che entrambi i giocatori hanno dato tutto fino alla fine, fino all'ultima giornata e per questo lui naturalmente è grato a tutti i giocatori della scorsa stagione, Donnarumma e Cialanoglu compresi. Però è chiaro che adesso è importante guardare avanti, è importante arrivare a giocatori, lo ha ricordato il nostro allenatore, che vogliano crescere con noi, che sentano l'idea di arrivare al Milan, che vogliano star bene qui e che vogliano crescere qui. Si riferiva Stefano Pioli soprattutto in generale, perché ha parlato con Mike Mignon e ne ha ricavato una grande impressione di carattere umano, ma si riferiva anche, oltre a un concetto di carattere generale, anche al giocatore che, dice il nostro allenatore, inevitabilmente arriverà sulla tre quarti per la sostituzione di Cialanoglu. E quindi evidentemente questo è un aspetto molto importante, l'orgoglio d'appartenenza, l'attaccamento alla maglia, ne parliamo tante volte nei nostri discorsi quotidiani, nelle nostre conversazioni quotidiane, la motivazione, il desiderio di rimanere attaccati al Milan e di percepire l'identità rossonera e i valori della maglia rossonera. Sono cose che devono sempre più far parte di questo gruppo e di quest'anima, tenendo conto del fatto, l'ha detto proprio Stefano Pioli, che a parte Zlatan Ibrahimovic, tutti i giocatori del Milan hanno ancora ampi margini di miglioramento, hanno ancora ampi margini di crescita per arrivare al massimo del loro potenziale. Quindi capiamo fin dal giorno del raduno che il nostro allenatore ha le idee chiare sul lavoro da fare, sui giocatori, per spronarli, per tirare fuori ancora qualcosa di più rispetto alla stagione scorsa. E in effetti il Milan inizia questa stagione avendo più tempo per preparare la squadra. L'anno scorso il Milan si era radunato nella seconda quindicina d'agosto e a metà settembre aveva subito i preliminari di Europa League. Questa volta invece il raduno all'8 luglio, il campionato inizia il 22 agosto, la Champions League invece inizia a metà settembre. Per cui c'è più tempo per tutto. C'è la possibilità di fare una buona semina, c'è la possibilità di fare un buon lavoro da parte di Stefano Pioli, che non è entrato nelle questioni che riguardano evidentemente la società. Ci tiene molto il nostro allenatore a tenere separati i ruoli e le competenze. Lui naturalmente si occupa del campo, si occupa di allenare i giocatori che ha a disposizione, non si occupa di giocatori di altre squadre, non si occupa delle questioni extracampo ed extra tecniche dei suoi giocatori. Abbiamo percepito durante tutta la conferenza stampa che il contatto durante l'estate da parte di Stefano Pioli con i giocatori è stato continuo. Ha detto, ho sentito quasi quotidianamente Zlatan Ibrahimovic, ha detto, ho sentito anche di recente Simon Chier, ho sentito di recente, ha detto Stefano Pioli, Frank Essie, prima della sua partenza per le Olimpiadi. Per cui c'è un canale del dialogo costantemente aperto fra Stefano Pioli e la squadra ed è anche questo il motivo per cui poi Stefano Pioli ci racconta dell'affetto, del legame che c'è fra lui e i suoi giocatori. Perché non è solo professione, non è solo allenamento, non sono solo ritiri, non sono solo partite, ma è soprattutto contatto umano. Un contatto umano che naturalmente poi è alla base dei segreti, se si può parlare di segreti, che è alla base del buon funzionamento di questa squadra. L'obiettivo di Stefano Pioli lo abbiamo percepito in maniera molto chiara. L'anno scorso il Milan è stato una sorpresa, vuole esserlo anche quest'anno. Il gusto di essere una sorpresa, il gusto di rompere gli schemi, il gusto di andare al di là dei pronostici prefissati. Questo è un aspetto molto importante perché spesso nel calcio si fanno, sulla base dei luoghi comuni, si fanno tante griglie di partenza, si appiccicano delle etichette. Ecco, il Milan così come sta provando a fare cose diverse e alternative fuori dal campo, vuole farle anche in campo. Questa è stata poi una giornata nella quale non è stato presentato solo Stefano Pioli, è stato presentato anche Alessio Dionisi, nuovo allenatore del Sassuolo, la presentazione di Giuseppe Murigno che ha catturato tanti titoli, Giuseppe Murigno che insomma anche qualche passaggio sulla scorsa stagione, sull'allenatore dell'Inter, sulla scorsa stagione dell'Inter lo ha fatto, ma insomma queste sono questioni che riguardano Murigno e la sua storia più o meno recente. Per quanto riguarda Milanello, per quanto riguarda il Milan è stato molto lineare Stefano Pioli, Stefano Pioli ha un modo di parlare di calcio e di dribblare, le questioni che all'esterno possono apparire scottanti, me ne rendo conto, ma lui riesce a rendere invece molto semplici, molto fluide, quindi il fatto del suo dialogo con i giocatori, il fatto che tutta l'area tecnica e tutto lo staff tecnico conoscano perfettamente il valore dei giocatori, l'importanza nella squadra, l'importanza nella rosa, questo significa che all'interno del Milan c'è una valutazione precisa di quello che possono dare in campo tutti, che si è compreso. Poi naturalmente ci sono altre questioni che verranno discusse, verranno approfondite, verranno dibattute e naturalmente sono questioni economiche. Stefano Pioli giustamente non fa i conti, non fa i bilanci, deve far tornare i conti della classifica, deve far tornare i conti della squadra e è giusto che rimanga concentrato sul lavoro del campo e innamorato dei giocatori a sua disposizione. Questo è un aspetto decisivo, questo è un aspetto significativo, lo era la scorsa stagione e deve esserlo a maggior ragione anche in questa, tenendo conto del fatto che c'è una rosa del Milan all'inizio del lavoro, una rosa del Milan all'inizio del giorno del raduno e ci sarà poi una rosa con delle inevitabili novità, con degli inevitabili aggiustamenti all'inizio del campionato e naturalmente ne parleremo ampiamente. Per quanto riguarda la liberazione del cartello di località di Carbonolo ho anche un piccolo video, magari durante la stagione se saremo dell'umore giusto, se arriveranno i risultati giusti all'inizio del campionato vi farò vedere sempre su questo canale YouTube, però davvero è arrivato il forcone del diavolo a liberare il nostro cartello di località Porta Fortuna. Speriamo che sia un buon auspicio, ciao a tutti e a domani.